Roberto Simiele, per il Cus Molise una giornata speciale, si disputa il primo campionato interregionale di pattinaggio Abruzzo-Molise, un grande evento per il quale avete lavorato molto. Sì Stefano, abbiamo provato a creare questo evento qui in sinergia con il Comitato dell'Abruzzo e la FISR anche regionale. Ci stiamo riuscendo, i numeri ci danno ragione, abbiamo più di 100 iscritti, una cinquantina di primi pattini che si esibiranno anche durante la manifestazione e speriamo solo che vada tutto per il meglio. Un primo passaggio, partendo da questa base, si potrà fare qualcosa di meglio anche in futuro. Per quanto riguarda l'Indoor abbiamo cercato proprio di creare un grandissimo evento, per adesso è tutto perfetto, non sembra che ci siano delle problematiche rilevanti, qualche dettaglio che stiamo curando questa mattina per non peccare di inesperienza, essendo la prima volta, però ci siamo riusciti. Grandi numeri conferma che il movimento è in crescita anche nella nostra regione. Sì, assolutamente sì, i numeri ci danno ragione, noi con la società del Cus Molise sparpagliati sui territori di Campobasso, Riccia, Busso e Ciarce Maggiore abbiamo più di 100 tesserati, molti dei quali fra poco in sinergia con la società di dimensione internet, la quale ringrazio, abbiamo preso l'uso del pattinodromo, quindi potremmo anche allenarci all'aperto su una pista da fare invidia a tutta Italia, perché è veramente una pista spettacolare.